Avventura in cielo di Marcellino Panevino, parte 2 All'improvviso, senza aspettarselo punto, Marcellino si trovò in una zona di ombre fittissime, come se egli fosse inavvertitamente entrato nella buia notte. Provò un certo senso di timore, ma continuò a camminare. Intorno a lui brillavano enormi sfere, come palle infocate, e il bambino pensò che quella luce doveva essere la stessa che penetrava per la finestra della sua stanzetta fino al lettino. Vista dalla terra, quella luce sembrava molto più piccola, ricordava che nelle notti della sua malattia aveva cercato più volte di numerare i punti luminosi nel cielo e non era riuscito mai a contarne più di 17 perché si addormentava. Marcellino non aveva alcun dubbio di essere diretto verso il cielo. Il cielo, poi, era sicuramente un luogo allegro, pieno di luce. Quello, dunque, non poteva essere il cielo. Tutt'al più era il cammino per giungere. Infastidito, anziché no, da quella spessa oscurità, ma continuando sempre a camminare guidato dalla luce di quei globi, gli venne il sospetto di trovarsi vicino al purgatorio, o forse anche vicino all'inferno, sebbene non si avvertisse un gran caldo. Se la cosa stava così, il credo era sbagliato. Ma il credo non può sbagliare. E poi dice ben chiaramente che Gesù Cristo discese all'inferno. Quindi l'inferno doveva essere profondo profondo e sotto la terra, e non la sua, quell'altezza dove egli si trovava. Inoltre, il credo chiaramente affermava che Gesù, risuscitato da morte, salì poi al cielo, il luogo appunto in cui Marcellino era quasi sicuramente convinto di andare, e là non c'era manco l'ombra dell'inferno. Non sapeva il bambino che l'inferno a cui si riferisce il credo è il luogo dove i santi padri aspettavano il Cristo, e non l'inferno del castigo eterno. Ad ogni modo, fu turbato ugualmente da questi pensieri, perché tutto quello che i frati gli avevano raccontato sull'inferno, e che a lui allora sembrava solo una storiella, gli si andava ora rivelando con tanta chiarezza da fargli trattenere il respiro. Decise allora di affrettare il passo, ma un'enorme fiammata rossa si alzò d'improvviso vicino a lui e continuò a seguirlo da vicino, diffondendo all'intorno un chiarore sanguigno. Marcellino procedeva tremando accanto a quella terribile luce, e la sua agitazione aumentò quando essa, assumendo una spaventosa forma quasi umana, gli parlò così. Tu mi sei sfuggito laggiù, Marcellino, ma ben presto vedrai gemere quello che fu il capo dei bambiti che perseguitarono i tuoi genitori. Marcellino provò qualcosa di molto simile alla paura e alla pena e tentò di darsela a gambe, ma vide che non ci riusciva. Dovette quindi proseguire con lo stesso passo, sempre al fianco dell'orribile fiamma rossa che continuava a dire ad alta voce, «Egli tolse la vita a molti uomini e fu sua la colpa se i tuoi genitori ti abbandonarono, perché essi non volevano e lo fecero per salvarti. Poi tua madre cadde in un burrone mentre fuggivano, ma quando il bandito morì, allora sì che lo presi per i capelli e me lo portai qui con me». Ormai Marcellino si andava convincendo che la spaventosa fiamma rossa potesse essere il diavolo. Quando questa si fermò un momento e il bambino, seguitando a camminare, calpestò quella luce di sangue. Allora riuscì a vedere una figura che agitava le braccia e in quella figura, man mano che si avvicinava, poteva riconoscere le fattezze di un uomo vestito di nero che faceva enormi sforzi per avvicinarsi a lui, ma non gli era possibile perché qualcosa gli teneva impastoiati i piedi tra le ombre. E quell'uomo piangeva e spalancava gli occhi e stendeva le mani verso il bambino, quasi avesse voluto toccarlo, proprio come quando si chiede le lemosine. Mi intanto diceva «Tu sei il bambino abbandonato per colpa mia! Ora sto pagando quella colpa e tutte le altre cattive azioni che commisi in vita». Marcellino Panevino lo guardò attentamente e con grande commiserazione, ma non poteva fermarsi. Ancora non credeva alle sue orecchie, ma quasi per arrecargli un po' di conforto, gli disse «Però dopo mi raccolsero i frati». Quell'uomo continuava a contorcersi come se fosse stato di paglia e di fuoco. Ormai lontano, appariva avvolto sempre dalla spaventosa fiamma rossa che giungeva ancora fino alle spalle del bambino. Si inghiozzando dirottamente, il poveretto di tanto in tanto scompariva e ogni volta che si immergeva nelle ombre si levava intorno a lui un polviscolo rossastro. A Marcellino il cuore si stringeva dalla pena per quel disgraziato, ma capiva di non poter far nulla per lui. Proseguiva così il suo cammino, seguito per un lungo tratto da quelle grida d'angoscia e da quel pianto. Tra i gemiti giungeva di tanto in tanto più chiara la sua voce. Era un grido d'accusa, la confessione terribile di aver ucciso molte persone e di aver causato anche la morte della madre di Marcellino. Il bambino non aveva più il coraggio di voltarsi verso quell'ombra ormai lontana che gemeva e si contorceva convulsamente dal dolore e intanto cercava, ma in vano, di raffigurarsi quel volto. Divi a poco si udì ancora la voce della grande luce rossa che aveva presentato il dannato come il capo dei banditi. Essa gridava per tormentarlo. «Lo vedi? Quello è il bambino che va in cielo per riunirsi a sua madre e tu sei là!» E la voce dell'uomo, affievolita dalla distanza e rotta dai singhiozzi, replicava. «Quel maledetto dice il vero! Ahimè! Son condannato ad assistere al passaggio di quelli che vedranno Dio! E io no! Io no, povero me!» Allora, in fondo alla via lunghissima, oltre le ombre, Marcellino Panevino vide una piccola luce splendente come l'oro. Fu per lui come lo spiraglio della luce del sole per chi si trovasse sperduto nelle viscere della terra. E da laggiù, dalla piccola luce d'oro, arrivò ai suoi orecchi una dolce voce che diceva «Non temere, Marcellino, che il diavolo non ti può far nulla. Non parlargli e tappati le orecchie per non sentire la sua orribile voce». La fiamma rossa crebbe e si allargò ancora di più infuriata e Marcellino seguitò a camminare verso la luce d'oro con le manine agli orecchi per non sentire. Subito la buona luce ingrandì divenne molto più grande di quella rossa. Allora il bambino si voltò e vide che quella luce d'oro inondava la luce di sangue e la vinceva e la metteva in fuga. Dopodiché la luce bella rimpicciolì e parve di nuovo assai distante. Marcellino intanto camminava e vedeva dietro a sé la fiamma rossa e l'uomo in pena allontanarsi sempre più finché li perse di vista. Invece la piccola luce che lo guidava ingrandiva di nuovo e prendeva poco a poco forma di uomo risplendente che gli veniva incontro sorridendo con due grandi ali. Somigliava all'angelo di cui spesso parlava il padre superiore sebbene fosse senza spada. Marcellino provò in cuore una grande allegrezza e mano a mano che si avvicinava cresceva in lui lo stupore per la bellezza di quell'uccello divino che sembrava formato dalla materia incandescente del sole. L'angelo non si muoveva e più Marcellino si avvicinava più si vedeva piccolo in confronto a lui. Alla fine l'angelo gli disse Sì benvenuto Marcellino pane e vino nel regno del mio signore. Marcellino felice di essere finalmente giunto stupì grandemente nel constatare di essere tanto famoso che fin lassù così lontano e così in alto conoscevano il suo nome. Dirimando allora domandò Tu lo sai il mio nome dimmi ora il tuo l'angelo che camminava davanti a lui gli rispose solamente Perché chiedi il mio nome che è meraviglioso? Marcellino allora tacco riflettendo fra sé e domandandosi se per caso avesse fatto qualcosa di male ma l'angelo gli disse Sono il tuo angelo e ora dovrai darmi la mano e così come si andasse con fra battesimo per i piccoli antichi sentieri o come si passeggiasse con quel buon uomo di fra pappetta Marcellino seguì l'angelo e presto ambedue si inoltrarono per una nuova strada ancora più luminosa della prima e proseguirono così per moltissimo tempo a un tratto il bambino vide venire da lontano un altro essere risplendente benché meno luminoso dell'angelo che lo conduceva a mano a mano che gli si avvicinavano sentiva il cuore balzargli in petto poiché credeva di avere delle visioni è il padre superiore domandò all'angelo ma questi gli sorrise e non rispose la verità era che la figura che si stava loro avvicinando benché non si muovesse era quella di un frate di un frate vero con tanto di tonaca di sandali di cappuccio e di cordone quando Marcellino gli giunse molto vicino con il suo angelo allora solamente si rese conto che quegli erano frate sconosciuto sebbene perfettamente uguale agli altri ed il frate che era magrissime con una gran barba e i cui occhi brillavano di felicità e di amore come se la voce gli uscisse dagli abiti mal rattoppati così gli parlò si benvenuto Marcellino pane e vino io sono quel fratello portinaio che tu non hai conosciuto ma che ti raccolse alla porta del nostro convento il signore ha voluto che come allora fui io il primo della casa a vederti ancora adesso sia io il primo a venirti incontro nella sua casa dove tu ora stai Marcellino guardava stupefatto il fratello portinaio e cercava di vedere la casa di cui egli parlava il frate allora lo benedisse e intanto si andava avvicinando un'altra ombra anche questa luminosa ma sempre meno dell'angelo ecco qui proseguì il fratello portinaio il nostro buon sindaco quello che ci diede il permesso di fondare il convento e che per questa e per altre buone azioni compiute in vita meritò di salire quassù nel cielo Marcellino guardò il buon sindaco e lo vide tanto grasso e vestito tanto similmente ai contadini della sua terra a fianco dell'angelo che gli faceva compagnia che a momenti scoppiava in una sonora risata e certamente così sarebbe accaduto se là intorno non ci fossero stati tanti angeli l'angelo continuava ad andare avanti e Marcellino dietro inondato dalla luce che proveniva da tutti i lati e soprattutto dall'angelo medesimo ad un certo momento Marcellino non seppe più pazientare e domandò la vedrò subito mia madre l'angelo si limitò a rispondere c'è ancora molta strada da fare nei nuovi sentieri lungo i quali l'angelo conduceva Marcellino la luce cresceva e gli astri mutavano se ne vedevano infatti di nuovi diversi da quelli di prima Marcellino se ne era ben accorto e qualche volta se l'ha rivolto indietro senza che l'angelo vi facesse caso aveva così osservato che laggiù lontano farevano seguirli due piccole luci tra sé pensava fossero le ombre luminose del fratello portinaio e del buon sindaco per quanto Marcellino si sforzasse di nasconderlo seguitava a pensare alle cose viste o dite inoltre la presenza dell'angelo che aveva al fianco gli era in breve diventata tanto familiare e abituale che non poté fare a meno di alzare la sua vocina e domandare sei stato tu a dirmi di tapparmi le orecchie per non sentire il diavolo l'angelo non rispose nulla però volse dolcemente il capo e lo guardò negli occhi in un modo che il fanciullo credette gli avesse sorriso e devi essere stato pure tu colui che ha lottato contro il demonio e lo ha vinto l'ho visto proprio io hai spinto quel fuoco rosso come il vento spingeva le nubi laggiù sulla terra l'angelo però continuò il cammino in silenzio mentre Marcellino almanaccava la maniera di poterlo far parlare in qualche modo magari soltanto per riudire la sua voce dolcissima allora è vero che quello che gemeva fu la colpa di tutto senza guardarlo l'angelo rispose proprio così Marcellino il bambino affrettava il passo per avvicinarsi di più all'angelo ma questi manteneva sempre la stessa distanza ed il ragazzo non riusciva mai neppure a toccargli le ali il diavolo diceva che quel bandito uccise molti uomini ripeteva il bambino parlando quasi a se stesso l'angelo camminava camminava sempre in silenzio e la luce cresceva lentamente ma di continuo Marcellino allora volle dire qualcosa che certamente l'angelo avrebbe molto gradito di udire certo gli hai dato una bella lezione si è dissolto nell'aria come una bolla di sapone non solo stato io questa volta l'angelo rispose con severa dolcetta ma il signore che ha vinto come sempre Marcellino lo guardava e tornava a guardarlo e riguardarlo e provava una strana sensazione stava benissimo con lui lo guardava con piacere e gli sembrava di conoscerlo già da molto tempo per questo soggiunse ancora ma non sarai tu per caso il mio angelo custode l'angelo senza indugiare risponde tu ora l'hai detto Marcellino allora il ragazzo coraggiosamente e con prontezza replicò le cattiverie che mi lasciavi compiere dunque dunque avendo udito ciò l'angelo si volse un poco verso di lui gli sorrise più affettosamente che mai e gli disse non potevo impedirle Marcellino cercavo solamente che tu mi dessi ascolto e comprendessi quello che dovevi fare invece di quello che facevi Marcellino a queste parole borbottò qualcosa fra sé poi decise che sarebbe più prudente dir subito una cosa che gli pesava ed esclamò ora però non vorrei mica raccontare a qualcuno le brutte cose che ho fatto per la prima volta l'angelo scoppiò in un riso argentino che all'orecchio di Marcellino risuonò come una musica divina una musica comunque ben diversa da quella di frate Merlo quando terminò di ridere l'angelo disse il signore sa già tutto Marcellino conosce ogni cosa prima che accada mentre accade e dopo che è accaduta andavano così camminando Marcellino e l'angelo senza stancarsi e senza mai fermarsi per una strada che diventava sempre più ampia e risplendeva come un diamante ma l'angelo non amava parlare e Marcellino si immerse ancora nelle sue riflessioni tra le cose che si riprometteva di dire al signore il bambino riordinate le idee ne aveva pronte due una più importante dell'altra la prima era quella del cielo degli animali e l'altra quella di far riunire quanto prima insieme al signore i frati ed anche Emanuele il tutto naturalmente se Gesù avesse mantenuta la promessa di fargli rivedere prima sua madre intanto pensava anche al fatto di non poter implorare misericordia per quel povero capo dei bambiti che soffriva sotto il potere del demone come del resto era successo in un'altra occasione anche a Gesù che aveva sofferto sotto Fonzio Pilato anche questo lo diceva il credo e il signore non poteva averlo dimenticato quando Marcellino immerso nei suoi pensieri tornò ad osservare ciò che accadeva intorno a lui per la terza volta vide delinearsi laggiù lontano alcune figure umane che rapidamente si avvicinavano quando furono vicine l'angelo annunziò la presenza del panciullo in questo modo questi che viene con me è Marcellino pane e vino la luce si era duplicata ed era due volte smaiante e bella come già era avvenuto prima con il fratello Portinaio e il buon sindaco perché dentro pur avendo al fianco un solo angelo vi brillava una persona di particolare splendore e questa persona non era come gli uomini che Marcellino aveva visto tante volte ma un po' più somigliante agli angeli con i lunghi capelli spioventi sulle spalle il ragazzo vide che indossava una specie di lungo abito bianco e gli parve dovesse trattarsi di una donna allora la donna o quel che fosse si avvicinò a Marcellino e sollevando le sue braccia nude al cielo esclamò con grande contentezza tu dunque sei il figlio del mio povero fratello e adesso Elvira potrà rivederti Marcellino rimase incantato a guardarla e non capiva davvero chi potesse essere quell'Elvira per questo le rispose io non so chi sia Elvira come tu dici la donna fissò i suoi occhi che erano bellissimi negli occhi di Marcellino e subito continuò Elvira è il nome di tua madre povero piccolo ma ora finalmente sei felice e lo sarai ancora di più fra poco a Marcellino piacque la parola Elvira ma è udita fino ad allora e gli parve un bel nome per una mamma bella come doveva essere la sua almeno a credere quanto Gesù gli aveva raccontato di tutte le mamme e rimase per un momento sovra pensiero mamma tua è qui ma mio fratello non sappiamo dove si trova soggiunse la bella fanciulla tutti intanto camminavano e Marcellino e l'angelo andavano più in fretta allora il ragazzo volle domandare e chi sei tu che mi parli così sono Michela sorella di tuo padre che si chiama Claudio e zia tua io ti vidi in braccio a tua madre quando essi si davano alla fuga e poi non seppi più nulla di voi finché non giunsi qui e mi ritrovai con il dira chissà che ne è di Claudio non lo vedemmo più io neppure l'ho visto disse allora Marcellino ma ho visto un tale che ha colpa di tutto e soffre molto a sentir quel che dice intanto Marcellino e l'angelo andavano separandosi da Michela la quale da lontano fece udire ancora la sua voce ti benedico di nuovo piccolo caro come quando eri nelle braccia di tua madre i due proseguirono il loro cammino Marcellino tanto per cambiare discorso e per parlare al suo angelo osservò questa luce che ci trapassa non è come quella della terra allora l'angelo lo presi di nuovo per mano e camminando di pari passo cominciò a spiegargli che quella luce non era come l'altra perché quella terra era molto imperfetta quasi un abbozzo della luce celeste la luce terrestre del sole era densa di particelle oscure poiché la luce del mondo si compone di tanti corpuscoli luminosi separati fra loro tra gli uni e gli altri non c'è luce ma soltanto il suo riflesso mentre in cielo dappertutto è luce purissima e non c'è in essa neppure una sola parte nera spiegò ancora che tutta la luce proviene da Dio e che egli non permette ce ne sia di più perché diversamente nessuna anima nessun angelo nessun santo per grande che sia potrebbe sopportarla